attenzione quindi subito lì si collega o c'è qualcosa ancora a destra no sì perché poi a destra c'è è erba due scur La grossa questa quant'è di 10? Ah, mi pareva grossetta. Ma non è proprio grossa, la mia è grossa. La tua quant'è? Io ho preso una finissima per fare autosicura, così mi scorre bene, 9.2. Se no si è normale, per fare con altri ho 9.8. Buon. Sposto. La grossa è stata classica. La grossa è quella di 3. La grossa è struzione e la grossa è e la grossa. спostante. La grossa è struzione di un cuore di fissare che metti un cuore di fabbola. Grazie 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 Ma lì a destra non c'è una catena? Si Però è in comune E col 6 a più In comune col 6 a più Quindi è quella da In comune In comune In Iraq In 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 Grazie a tutti. 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 Oh, mica, se sei stanco, dimmi, ti porto io. Vai, mica! Grazie a tutti. 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 Grazie. Eccolo. 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 Grazie a tutti.